La finanziaria prevede tagli per 140 milioni ai patronati, quali potrebbero essere i rischi per i cittadini e i lavoratori che si rivolgono a voi? Noi svolgiamo un'attività gratuita verso i cittadini, quindi siamo di supporto quasi totale agli enti previdenziali e quindi il taglio che il governo vuole fare verso di noi sarebbe un colpo mortale perché rischierebbe di paralizzare tutta l'attività gratuita che noi svolgiamo di consulenza anche verso il cittadino. Cosa avete chiesto ai parlamentari fiorentini? Oggi abbiamo fatto un'altra iniziativa, abbiamo chiesto di sensibilizzare anche a livello centrale questa cosa affinché si metta mano non tanto a un minor taglio perché comunque anche un minor taglio rischierebbe di paralizzare ugualmente il sistema perché siamo con un incastro che abbiamo noi, i patronati rischierebbero appunto questa paralisi quindi chiediamo anche a loro un intervento diretto a Roma. Ecco, diretto a Roma ci sono due emendamenti, il primo è la soppressione, chiedete la soppressione di questo taglio oppure il taglio da 150 a 40? Sì, noi chiediamo innanzitutto la soppressione e poi a livello nazionale saranno loro che saranno coinvolti nel secondo emendamento di Causi.